allora vi avevo promesso che facevamo questo video dove andavo a scartare questo prodotto lo protegge la mia terra di sa chi i vatari e andiamo a vedere se c'erano delle problematiche visto che avevo intravisto qualcosa che non mi convinceva più di tanto naturalmente è un prodotto di un certo di una certa età è stato stampato più volte questo è l'ultima ristampa noi in questo momento andremo ad analizzare la confezione come è stato come è stata creata non la confezione e se ci sono delle problematiche quindi andiamo ad aprirlo con voi e poi andiamo a vedere la struttura stato messo in questa bustina per il semplice motivo che appunto come sapete benissimo voi qualcuno le ha già piantati e qualcuno a qualcuno ha iniziato a germogliare queste piantine che effettivamente non so di cosa quale piante sono i ragazzi come vi dicevo l'hanno piantato iniziano ad uscire delle piantine che è cresciuto più che è cresciuto meno io penso sinceramente non sono portato per il verde quindi penso che non cresceranno mai se le pianto io magari li do a mio fratello che fa un po di giardinaggio e lui è più capace di me allora la confezione andiamo a vedere subito la misura di questo prodotto che è 11 e mezzo quasi 12 per per 18 diciamo che è molto compatto rispetto rispetto ad altri prodotti e soprattutto perché comunque vedete ci sono un po di pagine quindi se non sbaglio c'è insomma ci sono due volumi messi insieme forse anche di più e quindi quindi aveva un pochino dei dubbi sulla durata eventualmente di tutta la struttura però ho già potuto notare ad esempio che ci sono delle pagine molto ma molto morbide il prodotto nell'insieme è molto flessibile vedete quindi quindi al tatto diciamo così è una buona edizione brossurata come potete vedere qua non abbiamo i fascioni classici della rilegatura a filo è però ecco il mio dubbio era proprio quello non nel senso che si potevano avendo tutte queste pagine se utilizzavano delle pagine un po più rigide insomma la copertina o quello che era la rilegatura potesse essere abbastanza abbastanza delicata ecco in realtà qua come dico spesso e è stata è stata usata una buona formula nel senso che hanno usato veramente delle pagine molto ma molto morbide il cartoncino il classico cartoncino che potrebbe staccarsi però anche qua vedo che hanno utilizzato una grammatura molto morbida e il prodotto si vede che è sigillato molto ma molto bene come vi dicevo per questi prodotti qua non è un bene utilizzare delle carte spesse e bianche a parte il fatto che voi sapete che io leggo veramente molto male questi contrasti su queste carte bianche qui ci troviamo veramente su una carta molto bella molto ruvida anche al tatto spugnosa come possiamo dire non sono pagine giallissime come uno potrebbe pensare no perché non è detto che una carta morbida deve essere forza scura opaca roba del genere sicuramente non è bianchissima ma vi posso assicurare che già da qua si può vedere la facilità di lettura del prodotto abbiamo una sovracoperta mi convince un pochino meno no graficamente questa copertina nel senso che va a questo punto si vuole dare una bellezza in più no per la copertina a mio avviso avendo le pagine molto morbide si poteva evitare magari la sovracoperta e fare una farla sono farla colorata qua in qualche modo ecco non è che va aggiungere una una preziosa un prezioso in più come posso dire no una bellezza in più si poteva colorare qui perfettamente perché come vi ho detto il dorso non va ad aprirsi quindi difficilmente lo segnate se voi proprio non l'aprite per per rompere per rompere il prodotto quindi la sovracoperta qua secondo me è abbastanza abbastanza inutile e secondo me qualcosina in più si poteva fare graficamente mi sembra molto ridotto avrei preferito una un'illustrazione a pagina intera sì forse così un pochino più delicata però come potete vedere una volta che voi lo mettete la copertina mettete qua in poche parole insomma mi sembra che non sia non sia proprio il massimo della centratura vabbè comunque non è brutta è molto delicata molto molto poetica come come sovracoperta ma ripeto secondo me si poteva benissimo visto che comunque all'interno non è che abbiamo delle cose in più ma semplicemente la stampa in bianco e nero della stessa sovracoperta ma quello è un giudizio mio grafico ripeto questa carta molto morbida quindi non bianchissima si presta benissimo ai disegni non mi sembra di vedere che passi dall'altra parte e anche l'inchiostro regge abbastanza bene ecco i neri sono molto neri non so ecco e qualcuno potrebbe potrebbe dire che in realtà se facevano carte più lucide il nero il nero usciva più fuori era molto più spesso era molto più importante importante in realtà non è così è semplicemente molto più lucido lo vedete con un maggiore contrasto ma ripeto per la lettura non è secondo me secondo me non è non è il modo migliore per leggere questo tipo di prodotto soprattutto perché rimaniamo in un diciamo così in una confezione abbassa abbastanza compatta però però direi che queste linee morbide si leggono si leggono abbastanza bene anche in questa edizione io per un brussonato del genere a 7 euro e 50 gli darei un buon otto ecco non lo trovo veramente malvagio sembrano veramente sigillate si girate per bene questa volta le copie il solito problema che abbiamo qua delle delle bolle d'aria che potete trovare qua ad esempio non c'è però visto che c'è se lo trovate facciamo subito la prova che che vi dicevo io quando trovate questa questi prodotti che magari non hanno una punta di colla in questo modo con questa colla che ripeto con la stick non è aggressiva schiacciate un pochino il bordo e andate a piantare lo strato di colla lì ok in modo che questa colla entri un pochino dentro quel punto che manca poi col dito andate a schiacciare ea togliere l'eccesso che è come potete vedere adesso non so se si nota il punto il punto vuoto è sparito quindi lasciate asciugare per un po e vedete che sono quella quel vuoto lì va si elimina ecco in qualche modo si elimina e non avete questo fastidioso problema di avere quel vuoto lì e naturalmente va anche sigillare quel punto che magari la colla non c'era ecco non c'è non ho da dire nient'altro su questa questo prodotto io subito ci ho messo la colla sopra animale quanto sono e quindi e quindi niente insomma io la promuovo questa edizione ripeto non mi piacciono queste edizioni molto piccole parlarvi di questo prodotto all'interno della trama e sotto trame vi conviene comunque leggervi su wikipedia su altri su altre piattaforme è un classico dei classici della fantascienza della fantascienza diciamo così tipica degli anni fin anni 70 inizio anni 80 e è un prodotto che potrebbe sembrare più al femminile in realtà è un prodotto ecco quei prodotti realizzati realizzati da autrici che di solito fanno fanno prodotti per per ragazze che però essendo un capolavoro della fantascienza in generale si adatta un pochino a tutto il pubblico non dice niente di nuovo nel tratto però la trama la trama è molto interessante molto carina da leggere sicuramente io ve la consiglierei di prenderla ad occhi chiusi ok per quanto riguarda la storia ripeto perché è un capolavoro per quanto riguarda invece la confezione questa nuova stampa secondo me a 7 euro 50 un brossurato fatto veramente bene soprattutto ripeto nelle rilegature quindi ragazzi mi raccomando quando andate a prendere questi brossurati vedo che adesso lo fate spesso andatevi a cercare queste problematiche che vi dico soprattutto di rilegatura ok queste queste carte avendo appunto questi questi albi avendo appunto questa carta carta molto morbida si sigilla di più rispetto magari a carte che se potrebbero essere più pregiate perché bianche spesse però che reggono sicuramente di meno la struttura ok con questo è tutto ragazzi ci vediamo alla prossima